Ciao ragazzi! Oggi faremo un tutorial di capelli. Cosa vuoi, Odi? Le codine. Ok. Odi, stavo pensando a quella cosa che mi avevi raccontato della tua amica che diceva che avevi i capelli brutti. Diceva una grande bugia perché hai i capelli più belli che conosca. Comunque ora siamo diventate amiche. Sì, me l'avevi detto. Vabbè, vorrei avere tanti capelli come i tuoi. Sì, io invece li vorrei avere come i tuoi perché sono lisci, biondi. Sì, ma i miei sono un po'... Cioè, molte persone li hanno come i miei, mentre i tuoi sono più originali. In un caso ragazzi, io volevo dire che se avete dei capelli ingestibili, state tranquilli. Trovate sempre la pettinatura giusta. Mi metti le forcine? Certo! Una qua e una qua. Ciao! Ciao! Ciao!